sai che c'ho qua il contasecondi o va che adesso lo manovra Sergio guarda metti le gambe più avanti dietro la schiena così con una mano sola ti stai più bene ma no con una mano sola non ce la fai no ce la fai si serve per l'equilibrio usarei una sola non devi cercare di volare vedi che sei dietro di più ma che sei brava con l'altra parte non sei bello finché crede non sei bello finché crede non sei bello finché crede non sei bello finché non sei bello non sei bello non sei bello non sei bello ahahah